E adesso cambiamo argomento e parliamo di fitness e di benessere. Sono tanti i benefici di una sana attività sportiva e questo può portare ovviamente dei giovamenti anche nella nostra vita, riversandosi poi in tutti gli aspetti della nostra quotidianità. Di questo e di tanto altro ne parleremo questa mattina con il nostro prossimo ospite che vado subito a presentarvi. Sto parlando del kinesiologo Mimmo Berni, Master Trainer della Federazione Italiana Fitness. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, molto spesso il mondo del fitness viene associato a qualcosa per un ragionamento di un obiettivo estetico oppure sportivo, ma tanti sono i benefici che questo può portare proprio al nostro benessere individuale. Sì, sicuramente negli ultimi anni diciamo che il termine fitness viene usato in maniera impropria identificando il fitness come quella pratica, come quella disciplina che apporta benefici solo dal punto di vista estetico. Ma sappiamo benissimo che non è così, anche perché se guardiamo un po' dal punto di vista etimologico il termine fitness sta ad indicare un soggetto in buon stato di salute. Se lo traduciamo dall'inglese to fit, soggetto idoneo, adattato a riprodurre biologicamente. Quindi sicuramente il fitness può essere qualcosina di importante, una disciplina per quanto riguarda l'estetica, ma porta a grossi benefici dal punto di vista del benessere a 360 gradi, colpendo un po' tutti i sistemi organici. Quindi non parlerei solo di fitness dal punto di vista dell'estetica. Quindi ci sono anche tante patologie che possono essere trattate attraverso questa pratica. Una delle più diffuse, ne dico una, è il mal di schiena. In che modo può essere trattato? Sicuramente il fitness può essere usato come mezzo, come una chiave per, sicuramente per prevenire, per trattare e addirittura in alcuni casi per conservare, tra virgolette, evitare il progredirsi di determinate patologie. In questo caso parliamo di mal di schiena, ma basta pensare anche ad altre patologie cardiometaboliche, come ad esempio il diabete, l'ipertensione, l'ipertiliceridemia, l'ipercolesterolemia, dove l'uso dell'esercizio fisico determina una riduzione della terapia farmacologica. Nel caso del mal di schiena sicuramente si può fare della prevenzione. Naturalmente dietro al termine mal di schiena si nasconde un mondo, perché il mal di schiena può andare da una semplice lombalgia, una lombosciatalgia, a patologie più serie come discopatie, protusioni, ernie discali. Naturalmente tutto ciò deve essere prima analizzato da un professionista del settore, in particolare ortopedico. L'ortopedico sicuramente farà un'anamnesi, un esame clinico, degli esami strumentali e poi si parlerà di prevenzione. La prevenzione naturalmente la si può distinguere in due branche. Una prevenzione primaria che deve essere fatta sicuramente dal fisioterapista o dal fisiatra. Poi c'è una prevenzione secondaria fatta dal chinesologo, dal preparatore atletico, dal personal trainer. Naturalmente quello che riguarda il lavoro del personal trainer o del chinesiologo è legato principalmente a migliorare la mobilità articolare, che negli anni si perde, la proprio scettività, quindi la percezione del proprio corpo nello spazio e il rinforzo muscolare non sempre inteso come quella parte estetica, ma più che altro un rinforzo neuromotorio, soprattutto sui muscoli antigravitazionali, perché è quella che grava tantissimo sul mal di schiena. E che servirà anche poi ovviamente quando ci avviciniamo ad un'età un po' avanzata. Sicuramente. Quindi possiamo dire che questa attività è anche proprio in un'ottica di una prevenzione? Noi lavoriamo molto sulla prevenzione, sul mal di schiena. In realtà dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché il mal di schiena non è una patologia, è un sintomo. Naturalmente è un sintomo che alla lunga si può trasformare in patologia. Naturalmente le cause principali del mal di schiena sono sicuramente l'ipocinesia, il poco movimento, la sedentarietà, gente che si muove pochissimo rispetto a prima. Poi al secondo posto abbiamo l'obesità, quindi il peso corporeo che grava su questa colonna vertebrale. Inoltre abbiamo attività fisiche molte volte effettuate in maniera non regolare, quindi non corretta. Ed infine tutte le problematiche posturali. Naturalmente c'è sempre bisogno di un consulto con l'ortopedico per tracciare delle linee guida, se orientarsi verso il fisioterapista o orientarsi verso il kinesiologo. E questo per tutte le patologie, non solo per il mal di schiena. Sicuramente. Come dicevamo nell'introduzione, sono tanti i benefici che il fitness può riscontrare, soprattutto in tutti gli aspetti della nostra vita, anche proprio nella produttività al lavoro. Sì, infatti. Diciamo che negli ultimi vent'anni, negli ultimi vent'anni, il mal di schiena è diventato una vera e propria piaga per la spesa pubblica sanitaria. È una delle principali cause di assenteismo dal lavoro. Se prendiamo gli ultimi dati del 2023, secondo l'ESAB, che è l'Istituto Europeo degli incidenti, statistiche incidenti sul lavoro, l'80% della popolazione europea soffre di mal di schiena. Il 25% in Italia. È una percentuale molto importante. Molto, molto importante. E se guardiamo gli ultimi dati del 2023 dell'INAIL, praticamente l'INAIL dice che la principale causa dell'assenteismo dal lavoro in Italia è dovuto proprio al mal di schiena. Al secondo posto c'è male all'orecchio, terzo posto mal di testa, risturbi psichici, ma addirittura al quarto posto le problematiche legate ai tumori, ai cancri. Quindi il mal di schiena superato in questa classifica, tumori e cancri. Lei svolge anche l'attività di formatore per la Federazione Italiana Fitness per personal trainer, ma non solo, anche per preparatori atletici e per il trattamento proprio di problematiche cardiometaboliche e posturali. Quanto è importante quindi dal suo punto di vista la formazione? Voglio aggiungere solo una cosina identica al discorso precedente. Voglio citare due modelli che potrebbero essere un'idea. Due modelli, un modello giapponese e un modello svedese, dove nelle ore di contratto loro inseriscono proprio delle attività di fitness e di wellness. Questo per garantire un'efficienza della macchina umana, delle pause quindi lavorative. Sì, dei loro operai e quindi migliorare la produttività lavorativa. Interessante. Per quanto riguarda invece la formazione, io lavoro con la Federazione Italiana Fitness dal 2003, sono un master trainer e ci occupiamo di formazione su tutto il territorio nazionale e anche in Europa. Praticamente è importante la formazione, il nostro obiettivo è quello di formare professionisti del settore. Perché ci rendiamo conto che man mano che andiamo avanti, riscontriamo sempre di più persone che vengono in palestra, io personalmente gestisco uno studio, uno studio personal trainer a fratto maggiore, persone che hanno problematiche, sono poche quelle legate all'estetica. Noi trattiamo principalmente problematiche alla schiena, alla colonna vertebrale a 360 gradi, e tutte le patologie cardiometaboliche. diabete, pressione alta, aumento di colesterolo, tutte queste cosine che sono abbastanza importanti. Perché si fa fronte soprattutto a queste situazioni e poco al discorso estetico negli ultimi anni. Certo, assolutamente sì. Quindi c'è un consiglio dei piccoli esercizi, uno che può consigliare in questo momento ai nostri telespettatori che si può fare anche a casa? Sì, sicuramente, non è facile, però diciamo che se andiamo dal punto di vista delle capacità da allenare, io metterò al primo posto la stabilità, capacità di stabilizzare, di contrastare l'azione di gravità. Poi al secondo posto metterei la mobilità articolare, al terzo posto metterei il tonotrofismo, che non è da confondere sempre con quella parte estetica, potenziamento muscolare. Se dovessi accostare i tre esercizi a queste tre capacità da allenare, che sono importanti per garantire una macchina umana efficiente, al primo posto, tutti lo conoscono, metterei il plank. Il plank. In stabilizzazione in decubito prono, in appoggio sui gomiti e sulle punte di piedi, mantenere la posizione isometrica per un tot secondi. Si potrebbe partire in maniera molto tranquilla e molto semplice. Da quanti secondi partiamo? Trenta secondi, tre serie da trenta secondi. Ai nostri telespettatori a casa. Tre serie da trenta secondi, con un minutino di pausa tra una serie e l'altra. Al secondo posto metterei, per migliorare la mobilità articolare, un movimento abbastanza importante, come la flessione della colonna vertebrale. In stazione retta, con le braccia estese verso l'alto, toccherei le punte dei piedi e ritornerei su. È un movimento di flessione. Al terzo? Farei tre serie da quindici, con un minuto di pausa. Al terzo posto, per migliorare il trofismo, considerando che non si hanno attrezzi, non si hanno kettlebelli, non si ha sovraccarichi a casa, metterei un piegamento sulle gambe con un rizzamento delle braccia verso l'alto. Quindi questi potrebbero essere dei consigli molto semplici da attuare in qualsiasi posto ci troviamo. Anche a casa. Io la ringrazio per essere stato in nostra propria. Grazie a lei. Questa mattina, quindi ringraziamo ancora una volta il kinesiologo Mimmo Berni, Master Trainer della Federazione Italiana Fitness. Piccolo break. Grazie.